piano ok ragazzi rieccoci bentornati a tutti sul canale di nikuman game Sono tornato qui Alla tipografia Dove abbiamo stampato I nostri soldi falsi I nostri banconote false Dopo aver girato un bel po' per conto mio E aver fatto Parecchi giri vendendo gelati Adesso ci ha sbloccato questa missione E quindi andiamo a farla ragazzi Ci buttiamo Fu realizzatore Sì ma La mafia sta tassando il tuo business Trova di farli fu Ma c'è un problema Non ho armi Ho solo il lancio a missili Che ho acquistato Spendendo tutti i miei risparmi Scusate E ho le granate Basta non ho altro Vabbè ci arrangiamo dai Ha tassato il cantiere navale No aspetta Ma cazzo ci siamo Ma che cos'è Senti pezzo di merda Eh vaffanculo Gli altri stanno arrivando Dove stanno Ma che cazzo di macchina di merda Ma guardate come si gira Vabbè Senti 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 Scendi Scendi Tommy Scendi Che mi sono rotto il cazzo Eh che cazzo Dove stanno Dove vanno Aspettate Ma vaffanculo Ma andatevene a fanculo Vabbè scendi Tommy Scendi Sta succedendo un macello Muoviti Eccoli 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 Manco Manco per il cazzo Lo beccato Dove fa Dove cazzo vai Ma dov'è E' ubriaco Ma non cagatemi Ma non cagatemi Ok Ok Via 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 E' successo un casino Però ce l'abbiamo fatta Eccoli Sali 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 Non lo so Non lo so Io salvo Non lo so Io salvo Che cazzo ne so Aspettate Aspettate Ci andiamo subito Ok ci siamo Olè Dobbiamo entrare Entriamo Aspettate Aspettate un attimo Magari Giusto per Ok Per sicurezza Questa è questa porcheria qui Ma Bo Buzzurri Guardate Sono dei villani Dei buzzurri Mi cambio i vestiti E salvo anche Visto che sono qui Ma si Cosa ce ne frega Dai dai salva salva Vai partiamo Tieni distretto gli amici No listen No listen Listen Uh listen I like fish I love fish I love them As pets and balls Or as food on a plate But as much as I love them I don't wanna Sleep with them Ok But right now Your italian brothers Are coming From up there To fit me With some Cement shoes And I Shut up Ken Sit down Lance What the hell's Going on It's your friends Up north Tommy They ain't too Happy you Cape da man They're coming down To see the business Certo. Ce la siamo guadagnata onestamente. Ciao. No big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million of cases. How many was it? Ten? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man. They knew I was coming, Sonny. Tommy, Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. Esatto. Prenditi quei cazzi di soli e fatti una fangora prima che ti spari un colpo in testa. I was your friend, Tommy. I hope that you'd see sense. See what's good for business. I trust you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. Che bastardo. Non mi è piaciuto questo stronzo. Non mi è piaciuto questo stronzo. Se lamentava fisso. Stavo troppo sulle balle. So Tommy, quale era il grande plan? Pensi di prendere i soldi falsi? Sarei la face e scappare con il mio tail tra le mie legge? No. Solo volevo ti fissare prima di farmi. Oh, oh, aspetta. La mafia sta cercando di rubare i tuoi soldi e di difendi la cassaforte. Dov'è la cassaforte? Vaffanculo. Aspetta. Con calma, eh. Piano. Se entrati tutti da lì mi va anche bene. Aie. Aspetta. Io resto qui, non mi fido. Eccolo, eccolo lì. Vaffanculo. Porca miseria. Ma che cazzo? Quanti siete? Fermi un attimo. Io sto qua. Resto qui. Dov'è il coso? Dov'è sta? Ah, eccolo. No, no. No, no. No, no. Eh, Tommy. You're going down, you're backstabbing prick. Oh, you think so? Aspetta. Cazzo. Te ne affanculo. Oh, no. Tu ne affanculo. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. Cioè, ma sto perdendo tutti i soldi? Brutto pezzo di merda Mi stava cialando i soldi Che fai? Scappi? Sfuggi? Ti raggiungo, tranquillo Che cazzo Ma da dove cazzo mi spara? Merda! Eh, vabbè, ma cazzo, ditelo Me la batto Nooo Mi metto qui Ok È morto? Che cazzo non è so? Non lo so, ragazzi Bene, morti Ciazzo Siamo ancora vivi Ma non so che devo, dove devo andare, ragazzi Ho ammazzato, l'ho ammazzato, coso? Ah, ecco lo stronzo Dovevo tornare a scendere? Ma va te ne affanculo Aspetta No No Aspetta Io vorrei rimettere fine subito A questa storia Lanciando Un bel missile Giù per le scale È che non mi fido più di tanto Porca puttana Dove vai? È morto? Non lo so Sì Attenzione Eh, cosa è successo? Cosa non è successo? Ma che cazzo dici? Tommy, cosa succede? Ho fatto? Ho un'espegno con un'associazione business Tu sai come è Tommy Ho un'espegno 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 Non mi fai la guerra mondiale Ho un'espegno Ho un'espegno Ho un'espegno E io sono un ucciso psicotico e un ucciso psicotico e un ucciso psicotico! Sì, non è proprio bello? E io sono un ucciso psicotico e di questa versione rimasterizzata! Al di là di tutti i problemi che ha avuto il gioco e di questa Remastered un po' tirata così, un po' fatta alla cazza eccetera! Mi è piaciuto molto non solo rigiocare GTA 3 che avevo già giocato all'epoca ma non l'avevo mai finito! ma anche GTA Vice City GTA San Andreas l'avevo già giocato quindi l'ho schippato ma la mia intenzione era proprio giocare e recuperare GTA Vice City infatti sono davvero contento di averlo giocato mi ha divertito parecchio la storia mi è piaciuta molto Tommy Versetti è stato uno dei personaggi più fighe, più cazzotti di tutti i GTA dal mio punto di vista perché diciamo che fin da subito ha una sua reputazione si fa rispettare quindi non partiamo proprio dalle basi rispetto a differenza degli altri GTA intendo poi il fatto di acquistare le proprietà e tutto il resto sì molto figo, molto figo diciamo che mi sono un po' perso appunto nell'acquistare proprio queste proprietà perché non sapevo quale acquistare, dove cercarle, dove andare eccetera quando mi servivano i soldi è stato un po' un mezzo casino e ho perso tantissimo tempo girando per Vice City nel recuperare i soldi necessari e nel cercare le proprietà da acquistare quelle più importanti rispetto ad altre perché ce ne erano alcune più importanti rispetto ad altre che ti sbloccavano le missioni per proseguire nella storia principale e così via e così via saranno usciti una quindicina di episodi non so bene quanti episodi siano usciti però io ci ho giocato davvero tanto davvero tanto mi ha fatto comunque molto piacere bello anche il finale ragazzi adesso Vice City è nostra sarebbe stato anche bello un altro capitolo con Tom Iversity perché è un gran personaggio veramente cazzotto che si fa rispettare che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e niente ok problema contenuto sbloccato possiamo continuare a fare cosa, roba però io credo di aver fatto tutto ragazzi perché non ho nessun'altra missione disponibile le uniche cose che potremmo fare ancora acquistare le altre proprietà però dovrei rimanere girando nelle varie proprietà già acquistate per... si? la conosco Mercedes si vuole bombare a tutti eppure Tommy non se l'ha ancora fatta vabbè che dire ragazzi penso di aver fatto tutto come stavo dicendo guardate noi abbiamo il carro armato qui ci saranno rimasto le diverse proprietà da acquistare ma dovrei andare in giro a recuperare i soldi quindi è un po' l'ho fatto già abbastanza è un po' una rotura di coglioni questa cosa di andare a recuperare i soldi eccetera quant'altro anche perché non ci sono i viaggi rapidi quindi devi sempre farti i vari giri in macchina insomma dopo un po' il cazzo dopo un po' riusciamo ad andarcene da qui dai dai facciamo arrivare a 6 stelline ci salutiamo così dai visto che abbiamo il carro armato dov'è l'elicottero? che lo faccio che lo butto giù vieni vieni olè dai devastiamo tutto non ci farma più nessuno niente nessuno sì certo e siamo a 6 stelline è grande bella bella dai 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 butta giù l'elicottero e buttalo giù no beccato va bene ragazzi ci è andata ma eh sì chi è eh fatto beste passa bene sono appena uscito dall'ospedale no dalla pulizia dalla centrale oh Tommy Tommy ho escucho queste storie tutte queste storie non so cosa pens wholly magari think that what she like but Tommy say Lane è vero è vero Queste storie che ho sentito, è veramente un avvocato. Tommy, l'amore! 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 L'amore è una famiglia orgogliosa! Non avremmo mai permettere la nostra figlia di un avvocato di diventare un avvocato! Per favore, mi dimenticami se è così, non credo che potrei prenderlo! Oh, Colonel! Posso assurarti che Mercedes non sarà mai diventare un avvocato. Non ti preoccuparti. Allora, il mio avvocato è un avvocato, ma quando mai? Allora, Tommy, devi scusare, il nuovo ministro dell'interior ha arrivato. Molti anni fa avevo ucciso il suo padre in un fai del culo, quindi devo essere politico. Eh! Buongiorno, amico! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!